PORCO DIO Non frega, un cazzo a nessuno No, non frega Ce l'ho sottoperto PORCO DIO Ma che sfiga è ciò Dal tetro l'ha lanciato Figa Ok, ci siamo signori sull'R6 Mobile Mamma mia, tanta roba Vai, startiamo Oh, eccola Probabilmente perché giocano In grattacielo Io prendo Oh, ma io Mi ero comprato, voglio provare MUTE Io mi son comprato Rook con l'Hakog Cioè, ma Fran, ma sai che mi hanno regalato tutti gli operatori Non so se te l'hanno regalato Lo so, lo so, l'hanno regalato a tutti Ma li regalano, visto che è appena uscito Li regalano a tutti per una settimana Ah, che figo l'Hakog Io invece ho visto che c'era questo qua che era MUTE Più un alt, più Twitch Io li chiamo Mi rifiuto di chiamarli come sono qua sotto MUTE e Twitch Putto Apprende, erano nel negozio che costano Erano scontatissimi Costano solo mille monete Tobi, sei lento Tobi, your connection, io si ho poteto Putto connexion Sto caricando Ma sai già tutti cari Mi sa che anche Non è vero, quelli dell'opera Non sono, adesso si Non è vero, regal, ho appena caricato Ma non coglioni Allora mettiamo Sì, tranquillo Ora mettiamo Rinforzate l'obgetto Oddio, fa la stessa animazione di MUTE Ma sì, le animazioni sono uguali Come erano un po' i suoni delle armi, ma neanche troppo Vai, ho impiazzato i gem All'arma di Kapkan Ho fatto un drone Che posso mettere il ballistica Prendete le corassi Io raga sto così Vai, prendo le tue armature Fa la stessa animazione Puoi prendere Sì, mi hai fatto bene Se è meglio del rimbo originale Cazzo, ti facimi Oh, anche, anche Ah Fuori da me Prefire, prefire, prefire No, mi ha ammazzato Ha ammazzato il tizio che si chiama Amber, lo si dice No, ma dai Ma dai Tappi occhio a destra che c'è il buco Nel bridge Non sono più attaccanti, eccolo Miga, ma ha sciolto Eh, perché siamo in team insieme Sai che quando siamo in team insieme Ma che? Ma dovevano preso? Scusate Ma dietro Ma va, va Io ho preferato lo sledge, ma... Ma questo quanto laggava Non può Ma ha sparato così Ma sparato E sai che la nostra sfiga continua, ragazzi Vai Vai, si trasferiti da un rimbo all'altro Oh, sapete quante forte è questo qui che si chiama? Come che si chiama? Il dopato, questo qui Sì, quello che gli dà gli steroidi Ma sai quante forte? Si rianima da solo Fabi mi sa che è sempre l'ultimo Sì Per favore, dai Mi piacciono Tuisimo Eh, zona, zona Poi questo è carino perché almeno Ti dà tutte le posizioni possibili delle bombe E ti dice È spottato quella zona, però non c'è nessuno Ok, sono al quarto piano Cioè, voi tu iscritti aspettatevi una nuova serie, ragazzi Direi un po' di cazzo Direi un po' di cazzo Direi un po' di cazzo Puoi fare scanning a spam? Sì, e ti dai punti anche se... Che sei già scannerizzato Guarda, no, push-up Sì, sta cosa è fantastica Mi attacco con la recluta, barba, spassata Con l'M4 Epic fail Che è morta Twitch Ma io posso entrare nell'obiettivo, ragazzi? Ok, ce n'è uno in fondo Oh, l'ho atterrato Distrutto Enemy detected outside Ho distrutto un altro, raga, entrano troppo Io vado a prendere quello fuori, vai Che sono dentro, eh, raga Vai Perché c'è la defuser? Lo so Plant Planta, planta, planta Ce l'ho io L'inf No, quasi L'ho fatto Mamma mia, chi chi lo sa? Ho la mira migliore qui che su quello originale, tra un po', guarda Vabbè, ma non ti è uscito sul mirino Eh, ma non mi la fai figliessi, c'è lei Lasciami qualche gioia, almeno su questo rainbow Almeno su questo rainbow Certo che lo smoke con l'MP7 è una roba devastante Io prendo Bandit Vai, Tobi, su Non cagate il cazzo Ragazzi, sempre l'ultimo che carica Non cagate il cazzo Come on, you can, you can do this You can load Facco la testa a testa Guarda l'ultimo Non dovete rompere il cazzo Oh, no Oh, il filo barbuto, che cazzo vuoi Il filo con la barba Ho fatto un drone Esco Voglio spunchillare Che poi, questo Bandit tira tipo delle minchiette, delle caccole tipo addosso Calcolette Guarda cacolette Guarda cacolette Guarda che spottini pro league che mi faccio pure qui Non esiste ancora la pro league su st Ma si Se si stesse ci andremo Oh, ma che cacolette What the fuck No, c'è classe, c'è classe Ma mi è uscito il tizio con gli steroidi dal mondo Guarda che sto usando la sua torretta Sì, mi sa che non ha il Ehihihi Eccolo, l'hai visto? Cazzo, peccato che non posso usare il controller Vabbè, sennò sarebbe OP No, ho sbagliato lanciarla Ma dov'è? Ma dov'è? Ecco, ma ti ha plantato in faccia Ma ha plantato in culen Maari, bastardo Papà al sugo l'ho trovato io stamattina Papà al sugo l'ho trovato stamattina Ma come hai fatto a plantarmi in faccia che c'era la smoke? Eeeh Eeeh Compa, come hai fatto a plantarmi in faccia che è uscita la smoke? C'è, c'era la smoke Voglio fare i guantappini di revolver, aspetta Prendo Thermite Ah, si chiama Thermite anche qua C'è, ma... E' perchè... E' perchè ero tornato indietro Non è che faccio la rimonta, guarda Rimonto tutti, porco diavolo Infatti Bob, dai Senti No, no, che dopo ci ammazza Dai Esatto Facciamo i bravi, sei andato a visito prima Oh, li ho trovati, li ho trovati Maraviglia Sì, mi sono spawnati Beh, comunque secondo me, se imparo i comandi ci pu... Oh no, vuol vengato uno, raga Ho paura che ci rilenchi Che figo è la Thermite Oh, ma no, dov'è? Oh, ma no, dov'è? Easy Abbiamo vinto Ah, mia Qua il nostro pro gamer Dio, mi sento lui 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 Nella partita Bastarden Ha quitato No Stronzen Non lo so Però so soltanto che non carichi Cosa ha caricato subito? Oh, cosa? Cos'era? Ha caricato i secondi Ha laggato da 0% a 100% Sì, infatti l'ho visto anche io cosa Cosa? Davvero Te lo giuro perché mette la borsa e poi l'apre con la cerniera Beh, di sicuro la sua borsa ha più senso di quella che su Emo gli spottini alla Coconut Pro, aspetta Faccio parkour Dai, ma i suoni sono gli stessi Oh, ne ho sponchillato uno praticamente, ho rannotato C'è uno qui Aiuto È da me Su ping No, ma mi ha sciolto Che cazzo è qui? C'è uno qui Black hole invece sarebbe cab Black hole Eh, vi ho inventato così Easy Easy clap Ah, va bene Sto rimbo su mobile mi gusta, ragazzi Facciamo il rotoplatto Oh, che skill, mamma mia Quante skill Queste skills sono incredibili Guardate che bella l'interfaccia, una grafica migliore del rimbo originale Cioè dai E' un pacchetto alfa, 5 kill signori Attenzione Attenzione Aspettatevi Visto che rimbo fa schifo E' livello 5 Possiam farle ranked Quindi spolliciate se volete Una serie di ranked su questo canale Sul rimbo mobile No, ma si chiama Area F2 No, per poco non me lo dava con l'8% Anche a me più o meno per poco Bye Bye